E' finita uno a uno tra il Teramo e la Civitanovese nella prima giornata di campionato. E' stata una bella partita, emozionante e intensa tirata, con due gol e due espulsi, uno per parte. E' cani nel Teramo e tra orti nella Civitanovese. La Civitanovese è passata in vantaggio nel primo tempo, meritatamente con il Buonaventura, su punizione al 39esimo. Una Civitanovese che sicuramente ha meritato il vantaggio nei primi 45 minuti. Già prima di segnare si era resa pericolosa al 17esimo con Martelli, al 22esimo con Marci, colpendo la traversa e poi un palo. Il Teramo nel primo tempo non è che poi abbia fatto vedere grosse cose, poche idee, anche se i biancorossi però hanno avuto qualche buona opportunità. Anche nel primo tempo con Arcamone e con Traini. E proprio Arcamone al 42esimo ha sfiorato il gol pareggio. Nella ripresa ci sono state subito le due espulsioni per Fallo e Cani, appunto per il Teramo e tra orti per i marchigiani. Però la Civitanovese è scesa molto sul piano dell'intensità, sul piano fisico, ha smesso di giocare. Il Teramo è salito in cattedra e ha avuto una grande reazione di carattere. Ha pareggiato con merito al 31esimo con una bella azione Masini-Petrella. Petrella sicuramente tra i migliori in campo, un ragazzo davvero interessante, un 93, ma sicuramente un Teramo che ha prodotto grossa mole di gioco. E sicuramente ha creato tante buone occasioni e soprattutto tante ottime situazioni per passare in vantaggio. Forse i biancorsi sono mancati in fase di finalizzazione. Basta ricordare al 26esimo un'azione importante di Petrella, al 30esimo ancora una conclusione di Petrella, al 36esimo un colpo di testa di Speranza, al 51esimo ancora una conclusione di Petrella. La Civitanovese non ha fatto praticamente nulla, ha raccolto questo pareggio. Un pareggio che chiaramente sta un pochino stretto al Teramo per quello che si è visto nella ripresa. Giornata molto calda, c'era AFA in campo e il Teramo sicuramente ha risentito anche delle tante assenze. Mancavano ben cinque titolari davanti a circa 3.000 spettatori, quindi uno a uno tra Teramo e Civitanovese per TV Teramo, Giusy Cingoli. Capellacci, gara che partita in salita per il Teramo, ma prendiamo per buono la grande reazione della sua squadra nel secondo tempo. Sì, è partita in salita, è vero abbiamo preso gol, ma non è che l'abbiamo preso nei primi minuti di gioco. La difficoltà l'abbiamo avuta dal punto di vista tattico perché avevamo preparato un tipo di partita e poi invece in campo ci siamo trovati a avere a che fare con condizioni tattiche diverse. Probabilmente lì siamo un pochino mancati nel capire come dovevamo cambiare. Tra l'altro questa è chiaramente colpa mia. Sì, poi nel secondo tempo le cose sono andate meglio. Nonostante l'espulsione e l'inferità numerica, e grazie alla loro espulsione, suppongo, la partita ha ripreso un altro tono e a quel punto noi penso che abbiamo fatto bene. Magari la perfezione non c'è mai, però noi abbiamo fatto bene, considerato che avevamo anche pochi cambi che potessero dare una svolta alla partita e considerata anche la stanchezza della prima partita di campionato. Quindi tutto sommato io sono contento della prestazione e prendo per buono questo punto, anche se a tutti piaceva vincere la prima partita, però se ricordiamo come ci siamo arrivati a questa partita adesso se facciamo un attimo momento locale pensiamo pure che forse oggi non è andata così male. Nel secondo tempo però voglio aggiungere tanta pressione del Teramo, anche gioco, però il Teramo è mancato nella finalizzazione. Però questo tu sai benissimo che la qualità poi, quello che fa Gollo nella giocata importante, te la dà i giocatori. Oggi non è che stavo parlando di una squadra che non avesse qualità, però era una squadra che aveva alcune carenze. Questo voglio dire che bisognerebbe fare ancora di più i complimenti a chi ha giocato, chi ha fatto bene, però è normale che quando tu puoi avere a che fare con giocatori che hanno qualcosina in più o che comunque durante la partita puoi cambiare con qualcosina di meglio o di alternativo, insomma sarebbe meglio. Oggi noi siamo andati avanti un po' in inerzia, i cambi che ho fatto, come avete notato, sono stati solo per dare un po' più forza sugli esterni, dove magari stavamo un pochino calando, ma in effetti non potevamo cambiare nulla in tutti gli altri settori del campo. Quindi prendiamo per buono quello che abbiamo fatto e questo non è un punto perso. Mister Cornacchini, cosa ha da rimproverare alla sua squadra dopo che nel primo tempo era passata meritatamente in vantaggio? No, di rimproverare assolutamente niente, perché mi sembra che l'abbia fatto una partita come doveva fare. L'unico rammarico è non aver sfruttato questa superiorità numerica, cadendo in una trappola dove hai perso un giocatore che per noi era più importante, soprattutto perché era un under, soprattutto perché rimanevi 11 contro 10, quindi la partita la potevi gestire molto molto meglio contro una squadra che doveva ribaltare il risultato, quindi tu potevi ripartire, avevi più possibilità di arrivare a fare un altro gol, avevi un cambio diverso, quindi il rammarico è assolutamente quello. Nel secondo tempo la Civitanovese ha smesso di giocare, è scesa sul piano fisico, il Taramo è salito in cattedra, però vi ha messo in difficoltà? Ci ha messo in difficoltà perché qualcosina, soprattutto in mezzo al campo, come Marce, un giocatore che è arrivato questa settimana qui che non ha fatto la preparazione, quindi nel momento in cui sta bene, la cosa non è diversa, nel momento in cui cala un pochettino la sua intensità, la squadra ne ha subito, però va bene, io il rammarico non ce l'ho, non il rammarico, i rimproveri non ci sono, l'unico rammarico è non essere riuscito a sfruttare questo 11 contro 10. Speranza, peccato per questo pareggio iniziale, il Taramo nella ripresa meritava qualcosa di più. Sì, peccato davvero per questo pareggio, meritavamo qualcosa in più per il bel secondo tempo che abbiamo fatto, siamo stati sempre lì nella metà campo offensiva della Civitano-Varniavese, però abbiamo fatto il possibile per ribaltare questa situazione che si era creata. Purtroppo ci è mancato forse un po' di fortuna, solo quello. Quanto hanno pesato le assenze? L'ho pesato fino a un certo punto, penso che tutti i ragazzi che sono andati in campo hanno sostituito alla grande tutti gli assenti. Siamo un gruppo molto ampio e molto forte, quindi le assenze le riusciamo a sopperire in qualunque modo.